Signor Sindaco, la sua prima giornata da primo cittadino di Palermo per la quarta volta, come si sente? Si aspettava questo successo? Sapevo che i palermitani non ne potevano più della vecchia amministrazione, della vecchia politica di questi partiti anime morte che non sanno interpretare i bisogni di una comunità. La dimensione poi la consigli quando fai lo spoglio, ma che ci fosse un grande vento di entusiasmo, questo lo avvertivo, quel punto lì poteva essere 60, 65, 70, è stato quasi 75, mi sembra un straordinario stimolo a lavorare, a lavorare bene, una straordinaria possibilità per me di essere libero dai condizionamenti di l'accia e l'acciuole, ma anche una grande responsabilità. Lei pensa che il suo risultato personale a Palermo trascinerà anche l'IDV in chiave regionale, mi riferisco proprio al partito oltre che ai candidati ipotetici alla presidenza della regione. Italia dei Valori è stato il primo partito in città, ma credo che il mio risultato vada oltre Italia dei Valori. Voglio ricordare che ci sono due elementi di novità in queste elezioni e sono a Parma con l'elezione di un sindaco che ha preso 40 punti in più rispetto al partito che lo sosteneva e a Palermo con un sindaco che ha preso il 60% in più dei partiti che lo sostenevano. Vogliamo riflettere su questo? Vogliamo cominciare a chiedere se siamo adeguati come forze politiche a rappresentare il bisogno che c'è nel nostro Paese? Se allora il tema non riguarda né Palermo né Sicilia, riguarda l'Italia e se i partiti democratici o il partito di Selle, di Vendola, si ostinano a sbagliare come hanno clamorosamente sbagliato a Palermo rischiano di mettersi fuori dal cambiamento che è ormai in corso. Io ho avuto il consenso di chi è contro la casta perché sono apparso uno della casta che rinuncia ad essere della casta. Sono uno della casta, un parlamentare nazionale, un presidente di commissione parlamentare, un possibile ministro, un possibile presidente di camera o commissario europeo. Io ho detto, non basta, sapete che mi dico, vado a fare il sindaco di Palermo. Secondo le logiche di questi anime morte che pensano che la politica sia un carrierismo di casta, io ho fatto qualche passo indietro, non capisco niente. Sono apparso quindi da parte l'anticasta, dall'altra parte un'alternativa anche a un governo Monti che ha un tecnicismo senza anima perché un tecnico sono, il sindaco lo so fare e mettiamo l'anticasta con la professionalità e con una grande passione per le cose che fai si capiscono i miei occhi felici ma anche i problemi che devo affrontare. Lei ha parlato chiaramente anche adesso della sconfitta di Bersani e Vendola che si misura in particolare a Palermo. Ritiene che Bersani debba fare autocritica e magari fare un passo indietro nella leadership del suo partito e della coalizione di centro-sinistra per quel che riguarda le prossime elezioni politiche? Guardi, io devo occuparmi di Palermo che ha tanti di quei problemi che non posso occuparmi dei problemi del PD. Forse il PD dovrebbe pensarci e dovrebbe riflettere su cosa fare se vuole tornare a essere un punto di riferimento per una politica che sia di alternativa e per non apparire di essere sostanzialmente la coda della lucertola ormai staccata dal corpo che è morto con il rischio di continuare ad agitarsi ma in realtà ormai senza più vita. Un'ultima domanda su Palermo. Le casse del comune sono disastrate. Lei ha già preso contatti con i ministri Barca, con il premier Monti per parlare della programmazione economica su Palermo? Io incontrerò il presidente del Consiglio Monti, incontrerò numerosi ministri già domani a colazione e poi incontrerò Palazzo Chigi per continuare un discorso che domani accenderò dicendo che il governo Monti, che è un governo di tecnici apprezzati, deve dimostrare di essere sensibile alla questione sociale a Palermo come nel Veneto, però siccome faccio il signore di Palermo chiederò attenzione su Palermo.